Adesso direi di andare a vedere subito la seconda coreografia. La seconda coreografia inizia in posizione chiusa sulla linea di ballo per effettuare un giro rovescio. E 1 a 2, 3 a 4. Continueremo con botafogo in promenade e contrapromenade. E 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6. Side samba walk. 1 a 2. Criss cross. E 1 a 2, a 3, a 4. E 5 a 6, a 7, a 8. Whisk a sinistra e a destra. E 1 a 2, 3 a 4. Samba walks e side samba walks. Solo spot volta. 1 a 2, a 3, a 4. Corta giaca. Slow. Quick, 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 quick. Whisk a sinistra e a destra. 1 a 2, a 3, a 4. Movimento base girato un quarto a sinistra. 1 a 2, 3, a 4. Siamo pronti per riprendere la coreografia dall'inizio. Adesso la vediamo con la musica. Si te vas para la verbena, a verlos todos, a verlos todos. A lo loco es el sistema mejor de todos, mejor de todos. Si vas con elegancia, il commucio educazion. Al final sempre te basta, con un maraio de moron. Ora, a lo loco! A lo loco, a lo loco, a chiudere il comobile e pancito. A lo loco, a lo loco. Bravissimi i nostri ragazzi! Come avete visto...